Elisa Longo Borghini delle Fiamme Oro è la nuova campionessa d'Italia di ciclismo su strada. La piemontese classe 1991 ha vinto la monopoli Castellana Grotte, che ha portato le migliori atlete dello stivale a contendersi il tricolore in Costa dei Trulli. Un brand che ha coinvolto fino a 18 comuni di Puglia, che la Longo Borghini porterà cucito sul petto per un anno intero. Lo aveva detto con tutta la scaramanzia del caso durante la presentazione a Polignano, citando un vecchio andante popolare, non c'è due senza tre e il quarto viene da sé e ha confermato tutte le previsioni, sebbene l'andamento di corsa sia stato incerto fino all'ultimo metro. Sul podio con lei salgono Tatiana Guderzo delle Fiamme Azzurre e l'area Sanguinetti della Valcar, sebbene una medaglia d'oro la meritano anche gli organizzatori per aver realizzato un'impresa in solo 20 giorni. Gli applausi di Piazza Vittoria Emanuele a Monopoli e di tutti i 18 sindaci in fascia tricolore avevano sospinto le ragazze verso il lungomare all'inizio di una giornata di festa impreziosita dalla presenza mattutina del presidente nazionale della Federciclismo, Cordiano Dagnoni. La chiave di lettura della riuscita del campionato italiano Costa dei Trulli è proprio da ricercarsi nella parola sinergia tra i 18 comuni, la regione Puglia, la Federciclismo e soprattutto tra tre colonne portanti del ciclismo pugliese, la Spessa Alberobello, la Polisport Polignano e il gruppo sportivo Patruno. per un risultato complessivo sotto gli occhi di tutti e particolarmente apprezzato dai detti ai lavori giunti in Puglia da ogni parte d'Italia.